Ciao bambini e buon immacolata a tutti, sono sempre io la vostra Clarisse e oggi farò la recensione del quarto film d'animazione di Winnie the Pooh e il titolo si chiama T come tigro e tutti gli amici di Winnie the Pooh, uscito nel 2000. Non perdiamo tempo e andiamo con la trama. Allora il film inizia con tigro che come sempre sta saltellando e combina guai e comincia a diventare piuttosto insopportabile per tutti tranne che per Ro che gli è molto amico. Mentre poi gli altri cercano di ricostruire la casa di I.O. da poco distrutta, tigro combina l'ennesimo disastro che viene scrittato da Tappo e dagli amici. Il tigrotto si rattrista perché non trova nessuno che lo capisca e che abbia voglia di saltellare con lui. Verendolo triste, Ro gli chiede se lui avesse una famiglia tutta sua, cosa con cui il tigrotto non aveva mai pensato prima. A questo punto cerca di rintracciarla in modo tale da potersi sentire davvero in compagnia dei suoi simili. Tigro chiede consiglio a Uffa e gli consiglia di cercare il suo albero genealogico. Tigro però fraintende il discorso e crede che esso sia una pianta secolare tutta colorata a strisce con tanti tigri sopra che inizia a cercare tra i mille alberi del bosco dei cento acri, ovviamente senza successo. Prova allora a scrivere una lettera ma pur rimanendo per giorni ad aspettare una risposta che non riceve nessuna e pensa infine di non aver mai posseduto una vera famiglia. Gli amici di Tigro, rattristati e compassionevoli per farlo tornare felice, decidono di scriverglielo stessi una lettera mettendoci molte belle frasi e firmandola alla tua famiglia. Il giorno dopo Tigro arriva colmo di felicità dai suoi amici mostrando la lettera ricevuta dal testo della lettera. Però crede che la sua famiglia esista veramente e abbia pretensione di venire a trovare. Per l'occasione decide di organizzare una grande festa dei tigri per ospitarla. Ro, per farlo più felice, felice per non rischiare di smascherare la vera identità della lettera, propone di travestire se stesso e tutti gli altri da tigri e presentarsi a casa dei tigri fincendo di essere la sua famiglia. Tutti accettano la proposta tranne tappo. Dopo una serie di peripezie e disordini per travestirsi, Ro fa notare che oltre a travestirsi a strisce bisogna anche e soprattutto come comportarsi dei veri tigri. I finti tigri arrivano a casa di quest'ultimo dando invia alla festa. La serata però finisce quando Ro cerca sfugge centralmente con un balzo gli cadde la maschera facendo saltare la copertura a tutti gli altri. Delusa e arrabbiato Tigro se ne va di casa per cercare la sua vera famiglia e dopo aver camminato all'umore alla tormenta trova un immenso albero che la neve casualmente è imbiancata a strisce e crede che esso sia il suo albero genealogico che tanto stava cercando. Gli amici preoccupati per Tigro lo vanno a cercarlo nel bosco per convincerlo a tornare a casa. Inizialmente Tigro non ne vuole proprio sapere ma impresamente sulla zona si abbatte una valanga da cui Tigro viene salvato grazie all'intervento del gruppo che gli fa comprendere che i suoi amici sono la sua vera famiglia. Bene bambini, se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e scrivetemi qualche commento qua sotto. Ci vediamo lunedì o giovedì con un'altra recensione a Disney e un saluto da Clarissa e buona immacolata a tutti. Ciao!